I PopTV Star Emi Schilla, un'intervista esclusiva sul pluripremiato album Mercurio e sul tour che sta portando in giro in tutta Italia. Il 21 e 23 marzo alle 13, 17 e 21, non perdete i PopTV Star Emi Schilla. I PopTV Pass, lo spazio riservato ai nuovi talenti. Tutti i giorni quattro appuntamenti con il meglio della musica emergente italiana. Vuoi proporti? Posta il tuo video su facebook.com slash hipoptvitaly ed entra per una settimana in alta rotazione sul canale. Hipoptv Pass, la musica nuova suona su Hipoptv. Da lunedì e per tutto il resto della settimana, ospite a Made in Italy Space One, la nuova stagione. Ampriamo benissimo, Rocco Hunt, non perdetevi le puntate. Io ne ne sai! Hipoptv, solo su Sky, canale 720.